E noi vogliamo dimostrare ai nostri elettori e a tanti bravi militanti che siamo puliti perché ci sono sempre delle mele marce nei partiti, ma qui sta la differenza con gli altri, che siamo noi per primi a chiedere l'intervento dalla magistratura, noi non aspettiamo gli avvisi di garanzia, no, siamo noi a chiedere alla magistratura di fare chiarezza. Ma dottor, se ne faccia una ragione, gli hanno dato dieci anni, dieci. Lo so. Lo so, so quattro giorni che sei arrivato e non ti sei stato zitto mai, mai, manca la notte. Hai ragione caro. Hai ragione caro, lo sai perché sto dentro io? No. Per strage. Bravo, bravo. Che c'è, non ti piace? No, no, è buono veramente, veramente. Perché io poi per amicizia sono uno difficile, non è che faccio confidenza facile.